Ciao a tutti ragazzi, è arrivato il momento di fine anno di fare il nostro video Top e Flop, vedere quali sono stati i migliori prodotti che abbiamo provato in questo 2023 e anche i peggiori prodotti che abbiamo provato in questo 2023. Però, prima di iniziare, ci tengo a darvi due numeri anche su come è andato il canale, perché mi sembra doveroso. Come avete visto, da poche settimane abbiamo passato i 10.000 iscritti, quindi ragazzi, davvero grazie a tutti per il supporto e per continuare a guardare i nostri video. Vi do giusto due numeri che mi sono segnato. Quest'anno abbiamo fatto 201 video a fronte di 151 recensioni. Vuol dire che abbiamo provato più di 150 prodotti in ambito trekking, trail running ed alpinismo. In totale, questo secondo me è il dato di cui veramente vi devo ringraziare di più, è che abbiamo fatto più di 2.500.000 visualizzazioni. 2.500.000. Davvero, grazie tantissimo da parte nostra, perché è un dato che non ci saremmo mai, mai aspettati. Ma arriviamo dunque ai flop di quest'anno, iniziando dal quinto posto, ovvero gli Scarpa Ribelle Tech HD. Ti ricordi, Sara, quando ce li hanno presentati, quando ci hanno raccontato le tecnologie, cosa avevano detto? C'era un hype altissimo intorno a questo prodotto. Sì, mi ricordo le parole esatte del personale di Scarpa che ce li aveva raccontati, dicendo che erano gli scarponi paragonabili alla Formula 1, che avevano delle tecnologie all'altezza della Formula 1. Io mi sento di paragonarli proprio a come è andata la Ferrari quest'anno in Formula 1. L'avevano presentata come una macchina che doveva vincere il mondiale e subito, poi in verità... Un fiasco. Sì, ha fatto quel che ha fatto. Idem di questi scarponi, cioè, dovevano essere il top degli scarponi presenti sul mercato, poi in verità si sono rivelate degli scarponi comuni, con dei problemi anche loro, quindi diciamo che secondo me hanno fatto un flop, perché quando tu parti e vuole essere il migliore di tutti e poi finisci tra la massa, sicuramente non è stato il top, quindi direi che loro al quinto posto... Ci stanno tutti. Ci stanno tutti. Passiamo al quarto posto, in cui abbiamo voluto inserire un prodotto d'abbigliamento, ovvero i pantaloni Verglass di Ellie Hansen. Questi pantaloni li avevamo provati l'inverno scorso, avevamo fatto uscire la recensione a fine inverno, ma li abbiamo inseriti sia perché durante la recensione avevamo avuto un po' di critiche, perché adesso ricordo male che erano 400 euro di pantalone e si erano rotti. Sì. Si erano rotti. Sì, la parte sotto finale del gancetto se l'ha strappata, ma poi li ho riutilizzati un paio di settimane fa per andare a fare un lavoro, perché mi piaceva il colore, come venivano esteticamente, e si sono rotti definitivamente. Cioè praticamente si sono tagliati su una cucitura, si è completamente aperta la cucitura, e oltretutto abbiamo provato a chiedere di farli riparare, ci hanno detto che non erano riparabili, quindi praticamente 400 di pantaloni buttati. Diciamo che non è esattamente quello che ci si aspetta quando un pantalone costa 400 euro. Al terzo posto, come peggior prodotto, abbiamo una tenda ed è la The North Face Trail Light. Una tenda che ci ha deluso tantissimo, soprattutto per quanto riguarda la condensa. Veramente ci ha fatto passare una notte da incubo e una mattinata da incubo. Sì, e inoltre una cosa secondo me da riportare, perché fa capire anche come ha progettato questa tenda The North Face. Dopo che l'abbiamo provata, sono stato contattato dal loro product manager, che mi ha chiesto come mai avessi fatto una recensione, perché non mi fosse piaciuta quella tenda. E allora io gli ho raccontato, e poi gli ho fatto una domanda, gli ho chiesto, ma perché non avete messo nessuna zip, nessuna apertura, un modo per far uscire l'aria calda? Ecco, diciamo che la loro risposta è stata abbastanza eloquente, perché mi hanno detto, abbiamo voluto fare questa tenda ultralight, e quindi la zip pesava qualche grammo in più. A noi fa un po' ridere, sinceramente, però vabbè. Sì, diciamo che questo è quel tipo di ultralight che a noi non piace, perché se devo andare a risparmiare 3 grammi, per poi trovarmi la mattina, che praticamente la pioggia nella tenda, anche no. Al secondo posto, quindi, diciamo, il secondo prodotto peggiore di quest'anno, è stato lo zaino d'alpinismo di Simond. L'avevo provato in un'escursione veramente lunga, siamo andati in Valdimello, volevamo fare la cima di Castello, e vi assicuro che quando sono tornato a casa avevo la schiena distrutta. Diciamo che già quando l'aveva messo sulle spalle si vedeva che qualcosa non andava. C'era lo zaino completamente piegato dal peso del contenuto e delle corde, c'era veramente qualcosa appunto che non andava. Sì, e poi voglio riportare un commento che è stato fatto da uno di voi, che secondo me fa veramente capire quanto lo zaino avesse un problema di struttura. Qualcuno di voi, quando avevo piegato lo zaino all'interno del video, l'aveva commentato dicendo, sembra uno zaino della ISPAC, uno zaino con il quale andare a scuola. Ecco, diciamo che se uno zaino all'alpinismo sembra uno zaino della ISPAC. Abbiamo qualche problema. Sì, ecco, diciamo che probabilmente è stato il commento più eloquente di tutto il video. E per il primo posto? Abbiamo la sportiva Jackal 2 Boa. Il motivo è molto molto semplice. Scarpa presentata dalla sportiva per correre su roccia. Se andavi con quella scarpa su roccia, scivolavi peggio che andare a piedi nudi sul sapone. Cioè, veramente, vi assicuro che provare quella scarpa è stata un'impresa nel non finire a terra, per intenderci. Ma è eloquente, secondo me, ancora di più, che in tre anni che provo scarpe, difficilmente vi ho mai detto, ragazzi, questa scarpa da trail non compratela. Piuttosto come facciamo sempre, diciamo, utilizzatela per quest'ambito, per quest'altro ambito, quindi magari si restringe un po' il campo di utilizzo. Ma in quel caso gli è davvero stata l'unica scarpa di questo 2023 in cui abbiamo detto non compratela, perché veramente è pericoloso utilizzarla. E qua non evade della sicurezza di ognuno di noi, direi che il prodotto è stato veramente, veramente un flop. Ma prima di continuare con i prodotti top, fateci sapere nei commenti quali sono stati i vostri prodotti peggiori di quest'anno e quali anche quelli migliori. Ma passiamo anche ai prodotti che ci hanno stupito, che ci sono strapiaciuti. Quindi cominciamo dalla Ferrino Rift. Sì, è una tenda che ci è piaciuta tantissimo. L'abbiamo messa solo al quinto posto, perché ottima tenda, ma diciamo che sul peso Ferrino poteva un pochino lavorare meglio. Però davvero, noi, allora, noi innanzitutto ci abbiamo preso un temporale della Madonna e l'avevamo apprezzata sia per le sue prestazioni, ma anche per lo spazio interno, perché comunque eravamo dentro entrambi e non avevamo problemi di spazio. Ma poi anche montarla, i materiali... Era molto confortevole da utilizzare e ci ha veramente stupiti. Sì, poi oltretutto sono passati sei mesi dall'uscita e ho notato in giro che il prezzo è sceso veramente tanto. Quindi siccome come tenda in generale, se volete una tenda per fare un po' di tutto e una tenda soprattutto comoda, ancora oggi ve la consigliamo fortemente. Al quarto posto passiamo sul mondo del trail, ovvero le Scarpa Spin Planet. Qui c'è da fare un raggiamento, secondo me, più ampio sul tipo di prodotto che sta facendo uscire Scarpa. Perché se è vero che abbiamo detto i Rebellitech prima sono stati un po' un flop, in verità tanti prodotti che sono stati presentati da Scarpa quest'anno sono stati veramente una bella, bella scoperta. Io ho messo le Spin Planet perché secondo me tra la combinazione di prodotto durevole, ottimi materiali, parte riciclata, eccetera, era la migliore. Ma se mettiamo dentro anche i Ribelle, se mettiamo dentro anche le Rush 2, se mettiamo dentro, diciamo, un po' tutti i prodotti che ha presentato Scarpa quest'anno, diciamo che con Scarpa abbiamo capito che vai quasi sempre sul sicuro. Cioè in tanti anni che proviamo Scarpa forse l'unico prodotto davvero che è stato un pochino sotto l'attesa sono stati proprio i Rebellitech. Ma parlando delle Spin Planet, ottime scarpe, belle traspiranti, la sua la presa che ci ha convinto tantissimo perché Sara ha avuto modo di provarle poi su una scarpa da trekking con la presa, che dire, veramente Scarpa sta andando in una direzione che a noi piace tanto e spero che vi piaccia anche a voi. Al terzo posto, se nei flop abbiamo messo uno zaino all'alpinismo, anche qua troviamo uno zaino all'alpinismo, in questo caso l'Ortovox Peak Light. E secondo me qui dovreste andare a leggere i vostri commenti che avete messo sotto la recensione, siccome parlavano da soli. Sì, davvero, non c'è stata persona sotto al video che abbia commentato in maniera negativa questo zaino e soprattutto tantissimi tra voi hanno detto che lo utilizzano da molti anni, anche 6-7 anni, e che si trovano ancora bene. Quindi davvero un prodotto assolutamente valido e affidabile. Sì, è davvero uno zaino all'alpinismo che ancora oggi, siccome è uno dei top zaini d'alpinismo che si possono comprare sul mercato. Arriviamo al secondo posto, ma non c'è un secondo posto. Abbiamo deciso di non attribuire un secondo posto, o meglio, di fare due primi posti. Ovvero il primo posto nell'ambito trail e il primo posto nell'ambito trekking. Per quanto riguarda il trekking, abbiamo deciso di mettere il Gregory Baltoro. Uno zaino enorme, per cui comunque esiste, nelle versioni da 65, 80 e 100 litri, veramente grosso. Ma secondo me è uno zaino veramente fenomenale. Dal punto di vista dei materiali, delle feature, perché io mi ricordo quando siamo stati a fare il sentiero delle robe occidentali, è stato incredibile davvero tutte le tasche che aveva, il peso, perché quanto avevo portato? Di 20 chili. Qualcosa del genere. Sì, qualcosa del genere. Ed eravamo andati veramente stralisci. Davvero uno zaino fenomenale. Ne parleremo poi anche quest'anno, quando vedremo altri zaini di la stessa dimensione, ma lui è veramente uno di quegli zaini che se dovete portare tanto tanto peso, vi garantiranno di non spaccarvi la schiena. Invece lato trail abbiamo le Asics Trabuco 11. Sia perché sono piaciute tanto, ma anche perché ragazzi, non so se avete letto magari in giro i numeri, ma probabilmente è stata la scarpa più venduta di questo 2023. Grip fenomenale, anche loro l'Asics Grip davvero perfetto. Dal punto di vista della prestazione della scarpa, ottima, che c'è chi l'ha usata per il trail, c'è chi l'ha usata per il trekking, addirittura qualcuno mi diceva che l'ho usata anche per le OCR, quindi veramente un po' di tutto. Prezzo, comunque, ottimo. Anche negli ultimi mesi poi si è abbassata, visto che l'anno prossimo usciranno le 12. Quindi davvero ho loro delle scarpe che ancora oggi se le trovate scontate vi consigliamo di prenderle, perché sono scarpe che anche se usciranno le 12 l'anno prossimo andranno comunque da Dio. Dunque ragazzi, questi sono stati i nostri prodotti top e flop. Innanzitutto, prima di salutarvi, vi diamo davvero tanti auguri di buon anno. Noi ci rivediamo l'anno prossimo, che arriveranno delle novità sul quale stiamo lavorando da un po' di mesi. Vi ringraziamo tantissimo, come sempre, per il supporto. Sì, perché questi 2.500.000 visualizzazioni senza di voi non sarebbero mai state possibili. Perciò ragazzi, tanti auguri di buon anno e ci rivediamo l'anno prossimo. Ciao! Ciao!